Buongiorno amiche mie, oggi è il 28 dicembre e in realtà sto girando questa clip un paio di giorni dopo quello che vedrete adesso, subito dopo perché è passato Natale, è passato Santo Stefano ieri abbiamo trascorso un'altra bella giornata in compagnia dei miei genitori e siamo stati in questi due villaggi di Natale il primo è proprio il Christmas World di Villa Borghese a Roma ovviamente bellissimo e il secondo invece si chiama Solara Garden ed è appunto questo villaggio natalizio dove in realtà considerate che è più un grandissimo negozio quindi c'è tanta esposizione di articoli natalizi ma che sono anche acquistabili e vedrete delle immagini bellissime, degli alberi di Natale veramente meravigliosi, fantastici alcuni che girano, uno gigante veramente enorme vedrete anche la riproduzione di un villaggio di Natale ragazze ma di una bellezza veramente un amore e lì era possibile ad esempio acquistare dei pezzi ho fatto proprio un piccolissimo shopping, sono dei pensierini che ci hanno regalato i miei genitori e ve li volevo far vedere, ho preso questa gormicetta, guardate quanto è carina appunto natalizia che è venduta già con il cordino per appenderlo all'albero di Natale ma in realtà se volete c'ha anche questa spalletta, insomma questo piedino per poterlo appoggiare anche a un mobile è molto molto carina e poi ho preso, che l'ho preso sia per me, ma cioè i miei genitori me l'hanno regalato l'hanno preso anche i miei nipoti e anche l'ho preso al bambino di una vicina di casa questo piccolo lumino di Natale, guardate a batteria, che praticamente schiacciando, ecco, fa luce ovviamente voi non lo vedete ma comunque ecco, vedete si illuminano anche tutti i disegnini ed è veramente un amore, questo penso di metterlo nella mia piccola scrivania perché vi dico che fa una bella luce comunque ragazzi adesso mi taccio e vi lascio alle immagini appunto in questo breve excursus dal 25 dicembre così vi faccio vedere un pochettino che cosa ho preparato per il pranzo al 26 dicembre in cui ho fatto una pasta buonissima pure quella e appunto questi due villaggi io vi mando un bacione grande grande, ancora tanti auguri e come al solito vi aspetto nei commenti e vi chiedo, chi di voi è stato in questi villaggi? vi sono piaciuti a me tantissimo 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 e non ecco vi sono piaciuti a me tantissimo Eh, non puoi parlare Scusa Compa nera Eh, eh E' tanto qui C'era No 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 Eh, eh Hamburger Brata Vetti più No Dai No Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.